Ben trovato a Bruno Dalle Pezze, responsabile commerciale Rubner House. Buongiorno. Allora, cosa presentate in fiera al SAI 2018? Diciamo che quello che presentiamo al SAI quest'anno è il risultato di oltre 55 anni di esperienza che ogni anno viene naturalmente integrato e rispetta sempre più quelle che sono le richieste e le esigenze del mercato. Esigenze del mercato, allora le chiedo quali sono e in quale direzione va l'esigenza del cliente oggi? Il cliente è sempre più attento al nostro prodotto, al prodotto diciamo casa e richiede sempre più attenzione anche da parte dell'azienda che dovrà costruire la sua casa. Specialmente per il cliente italiano la casa è un acquisto molto molto importante, ci sono clienti sicuramente che hanno più di una casa, però comunque la maggior parte degli italiani si fa la casa per tutta la vita e probabilmente anche per i propri figli. Per cui è una cosa a cui tiene molto e diventa sempre molto 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 più esigente e sicuramente è molto molto più informato rispetto a una decina di anni fa. E il nostro diciamo, il nostro intento è proprio quello di cercare delle soluzioni che sono sempre al top per soddisfare queste esigenze che cambiano continuamente sia col passare del tempo ma soprattutto anche col cliente stesso. Come sta cambiando invece il modo di costruire, o meglio, in che modo la tecnologia e l'innovazione stanno impattando sul settore delle costruzioni? Sicuramente tecnologia e innovazione hanno un grosso peso nelle costruzioni. Noi siamo dell'idea però che l'involucro è la parte fondamentale della casa. Se la casa ha un ottimo involucro, tutto quello che è tecnologia è molto importante, ma ha un costo dal punto di vista gestionale relativamente basso. Per cui tecnologia sì, però l'importante è avere sempre un involucro e una struttura portante che funzioni.